Ciao Vincenzo, l'apertura del canale, il salutatore, ti ricordi? Finalmente! L'apertura del canale! Stiamo per aprire il canale a nessuno, nel senso che apri il canale per tutti. Arrivederci! Gli Anzait, gli Anzait! Gli Anzait su Pericolaus, maledetta Anzait! Ok, il salutatore saluta sempre! Sai, già, questo è il salutatore! Ricordiamoci per film, io mi ricordo! Saludate il salutatore, mi raccomando, questo è grande, grande! Grande Vincenzo, ciao, grandissimo, ciao!